Oggi io e Marco ci sfideremo della sfida degli youtuber, dobbiamo comprare i youtuber più forti di tutti e vincere quanto l'altro. Gratis, eccomi! Sei tu? Ah, ciao Marco, sei fortissimo te. Allora, come sei Marco? Tutto bene? Tutto bene, guarda, sono così forte che posso fare kill, loco, lochis. Come funziona? Esattamente. Ah, funziona così. Eh, guarda, morto così, diretto. Sono tornato, sono tornato, ciao Marco, sono mortale. Eh, sono forti entrambi, vai, dimmi tutto, dimmi tutto. Ti porto nel luogo dove compremo youtuber. Ti piace questa ambientazione? Tazza mia, bella, eh. Sono io con la sinistra. Io sono con la destra allora. Ah, andiamo, 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 andiamo. Eh, adesso andiamo, seguimi qua, premila perciopete e benvenuto nella zona degli youtuber misteriosi. Ah, ma questo qua è il pagliaccetto, eccolo qua, lui. Mi piace. Eh sì, lui. Abbiamo 2500 di lisiratesta, faremo tre round. Ah. E questi lisiratesta va a bastarci per tutte le round, mi raccomando. Perché hai messo anche una foto di Marcia al centro? Allora, questo sono io, quello sei te, e questo è un Loris, è un... Ah, ok. È carino, è molto bello. Quindi io compro gli youtuber premendo qua. Ah, 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 ah. Pertanto, tu sei, tu chi vuoi essere? Scegli te, uguale. In che senso che vuoi essere? Tu vuoi essere il blu o il rosso? Io voglio essere il rosso tutta la vita, scusa. Allora, io faccio il blu tranquillamente, senza problemi. Io mi compro sette fere, mi compro. Mi compro sette fere? Sai che mi compro io? Ah, ah. Mi compro Marco. Ah, carino, eh. Compro un bel po' di Marco, che Marco è davvero molto, molto forte. Mi compro dei mini francicoso anche. Però io ti consiglio di prendere quelli che sono i più potenti, che sono questi qui in fondo. Sono davvero tantissimi. Dei Marci? Dei Marci prendo. No, io non prendo Dei Marci. Poi compro anche la sereniche. Io prendo questo. E sto a posto così, carino, carino. Ah, così basta? Non vuoi sprecare tutto subito? Eh, sai che è rischioso sprecare tutto subito, loco, eh. Allora, facciamo, io mi sa che continuo ancora un attimino a prendere qualcosina. Mi sa che prendo ancora un, prendo due big loco. Ok. Io ho speso più di te, ma penso di essere a posto. Prendo anche Gocco, dai. Ah, anche Gocco è fortissimo. Ci sono, ci sono. Andiamo a sfidarci nell'arena, Marco. Forza. Ragazzi, i nostri eserciti sono piazzati. Hai fatto una tecnica un po' sparsa. È a quadra. Sì, sì, a squadra. È tipo un 4-2-2 di calcio. È un 4-4-4-4-2-3. Bello, invece il mio è un perforatore atomico. Ah, carino, carino. Sei pronto, Marco, ad anfrizzare tutti? Vada, vada, vada. Sono pronti a combattere. Osserviamoli. Ah, sì, si arrabbiano. Guardali, guardali. Stanno già combattendo tutti. Stanno combattendo tantissimi. Eh, però, c'è tutti conto franticoso. Sono tutti conto franticoso. Sarbbiati, eh, ok. È bene. Ma comunque, Marco è fortissimo. Nella tua zona. Aspetta, ma tu ne vivi un altro. Ne vivi un altro, ma tu sei un pazzo. No, stai veniti fortissimo. Guardali, guarda, sei rabbio. Sei veniti fortissimo. No, mi stai distruggendo. Ma perché i miei sono tutti in acqua? Perché sono stupidi i miei? Uscite dall'acqua, mi dirò te. Quanto c'è forte in acqua? No. Guarda, Goku, quanto picchia Goku? Oh, mio Dio, Big Glock è fortissimo. Big Glock è anche molto forte. Esatto. Vedo che un DeMarc si è addentrato nella schiera. Ma è forte DeMarc? No, mio Dio, DeMarc è morto. Vai, DeMarc. DeMarc. Però Big Glock è un po' un pifone. Sta scappando. Ma Big Glock è qua. Si fa il bagnetto, lui, e questi sono qua fermi e non fanno nulla. Eh, è un po' un pifone, Big Glock. Ma poi c'è un po' un pifone. Ma Marco mi ha distrutto tutto. Mi ha annientato completamente. Eh, già. Sì, sì, sì. Oh, mio Dio. Che ne sono due, tu, Loco. Ecco, Big Glock, combatti, forza, uccidi sto coso qua. Dai, Big Glock, forza e coraggio. Big Glock. Big Glock. Sì, prossimo. Bravo. E poi questi... Tu ne hai tre io una flotta. Eh, facciamo che... Hai vinto te questa? Va bene, va bene. Facciamo che le vinte queste e me li tengo da parte per dopo. L'accetto, l'accetto. Grazie. Emo ritornati nel negozio di youtuber, allora. Loco, io faccio una pazzia. Ma è una pazzia, Valdi. Mi sono curioso, voglio dire la tua pazzia. Un 5 Loco. 5 Loco? Compro 5 Big Glock, compro. Oh, mio Dio. Mi faccio una spesa polle. Sì, 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 sì. Mi interessa niente. Ello. Compro 5 Big Glock. Ok. E due Bella Kendall. Eh, ma... Uno e due. Basta così? Sì. Ma che ti avanzano poi tantissimi soldi. Eh, ma li ho utilizzati tutti alla fine. Perché già io ho vinto un round. Quindi se vinco questa puoi vincere tutto. Sai cosa faccio? Io adesso non voglio mostrare nessuno cosa compro. Mi compro tutti i segreti, poi te li mostro durante la sfida. Però sai che forse un Nico Viola lo compro, un Nico Viola lo compro. Eh, perché hai ancora tanti. Non vorrei che tu te li tenessi tutti per l'ultimo, basta. No, no. Tengo tutto per l'ultimo, io poi. Adesso mi prendo tantissimi dei vesti. Vediamo, vediamo, vediamo. Inizio. Ci vediamo dopo. Ok. I due eserciti sono pronti a combattere, uno di fronte all'altro. Mmm, il tuo vuoto è più numeroso, eh. Eh, ma tu hai tantissimi big lock che sono fortissimi. Vero, è vero, è vero. Io ho tantissimi buoni writers che ne costavano solamente uno. Unfreeze tutti e combattono. Oh, oh, oh. Attenzione, guerra. Sono partiti. Eh, non partono solo. I miei non partono. Non partono. Non vogliono combattere. Ok, stanno combattendo tutti. Sono partiti, loco. Forza, forza. Eh, sì, si sono arrabbiati. Mi prego. No, i big lock, i big lock sono fortissimi, oh mio Dio. Eh, aspetta che spingo i big lock un po' più in là, per favore che qua rivedo un po'. Te lo ho distrutto tutti. Vai, big lock. Oh mio Dio, stai inichi. Eh, loco. Marco, mi sa che ti ho appena distrutto completamente. Mi hai distrutto, sì. Tutto l'esercito. Mi hai appena distrutto tutto l'esercito. Uno a uno, c'è la bella, quindi ora. C'è la bella. Facciamo così. Questi io non li userò più. Puoi uccidere tutti. Uccidi tutti, Marco. Uccido tutti e tutti. Aspetta, no, non uccideli. Sono uccido tutti anche qui nel negozio. Uccidiamo dopo. Marco, io adesso mi muto perché non voglio dirti chi prendo. Io ti vedo già cosa stai facendo, però ci vediamo dopo, Marco. Buona fortuna. Ma no, c'è niente io. Eh no, niente, ma è tranquillissimo. Ragazzi, la tattica di Marco è quella di prendere solo se stesso. Io adesso prendo solamente me stesso. Il brand infiniti ci piegherà, cioè ci piegherà un pochettino. Eh ma sì. Sarà molto lunga come cosa, però almeno saremo potentissimi. Eh, ho ne pezzato uno. Eh ma, tu non ti resta qua, togliti. Anzi, poi non voglio solo me stesso. Anche lui ne pezzi tutto per sbaglio. Eh, è un bravo ragazzo. Adesso io adesso voglio prendere qualcuno che non ho mai preso. Voglio prendere, facciamo quattro Harry. Uno, due, tre e quattro. Prendiamo anche, facciamo tre stregoni. Uno, due, tre stregoni. Cosa posso prendere ancora? Questi non voglio più prenderli. Ma se prendiamoci uno solo Big Loco, che va benissimo. Prendiamoci per bene. Il nostro ventano è quasi... No, già abbiamo ancora un bel po'. Prendiamoci un po' di arcieri, che fanno sempre comodo. Marco sta finendo tutti i soldi, ne davvero pochissimi. Prendiamoci ancora qualche Goku. Ok, ho davvero pochi soldi. Lui se ne va, lui se ne va già. Prendo il maialino. Adesso prendo solo maialino. Vediamo quanti ne avanzano. Mi sa che ne ho preso uno di troppo. Ma ho fatto un casino. Ne elimino uno e... Andiamo subito a combattere. Ho sbagliato, ho sbagliato a comprarlo. Sono stupido. Loco, io ho fatto una squadra di calcio fortissima. I tuoi sono davvero potentissimi. Perché io ho creato un muro enorme davanti con due mini tank. Bello. I mini tank al centro e altri due dietro. Allora, comunque se tu vedi che ho speso troppo, sono in negativo. Tranquillo che l'ho buttato, tranquillo che l'ho buttato, l'ho fatto vedere in video. Ok, io perfetto. Allora, ti mostro la mia strategia. Allora, nel senso che tu ci sono i loco locus davanti. Che sono pronti ad attaccare e distruggire tutti i diamanti che ci sono. No, no, loco, tu non hai capito. I miei invece sono dei tank perfetti che spingeranno contro. Perché loro sono troppo piccoli. Quindi i miei spingeranno e verranno spinti da quelli di qui dietro. E ma io devi stare attento perché ho quattro Harry che fanno malissimo di stregoni che spandano le cose in fuoco. Io guarda che in realtà in questo momento farei tutto quanto un bel movimento, attivarei tutti. Vuoi attivare? Attiviamo subito. Per vedere chi ha delle due ragioni. 3, 2, 1. 3, 2, vai, fai te, fai te. 3, 2, vai. 1, 1. Come, putti. Attenzione, loco loco. Partono. Oh mio Dio. Oh mio Dio, cos'è sta cosa? Guarda i miei, guarda i miei. No, sono fortissimi i tuoi. Guarda i miei. Mi stai distruggendo completamente. Arrabbiati. Mi hai completamente annientato. Mi hai completamente annientato. La mia tecnica è incredibile. No, no, c'è ancora uno. È morto. La mia tecnica è incredibile. Ha portato alla distruzione di massa del tuo team. Mi hai distrutto completamente. I sterni che sono fortissimi. Io ho sterminato, loco. La mia tecnica era infallibile. Davvero troppo forte sta cosa. Marco. Grazie mille. Hai vinto. Sei stato davvero incredibile. Grazie. Grazie. Poi che questo video vi sia piaciuto. Tanto sto ancora combattendo questi qui sotto. Marco mi ha completamente annientato. È stato fortissimo. Ho stato i suoi soldi. Grazie, grazie. Era eccezionale. Poi che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo domani con un nuovissimo video. Grazie per essere citati. Marco. Saluto a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.